Roma, buonasera! Allora, signori e signori, vogliamo prima di tutto sentire il calore del Lazio! Ma soprattutto vogliamo sentire il calore di Roma! Abbracciala! Abbracciala! Aspetta! Vai sullo scapello! E' timido il cucciano! Sali sullo scapello! Fermati! Fermo! Abbraccialo! E' fotografia, per favore! Grazie! Guardate! E' sempre in Chofia! Propagella! Scrapello! Intangelo ed? Quanta! Ved ESO! RedemModelle! Grazie a tutti.